Musica Al peso di chilometrambi 72.500 dal Nicaragua Raffi Vecchio al lato rosso al peso di chilogrammi 72,500 Emanuele Ruspa Bellerosa Colonia Gerrichi all'angolo blu al peso di chilogrammi 72,500 Colonia Ortiz Ronny Benfield l'incontro è previsto sulla distanza delle 10 riprese da 3 minuti arbitra il signor Montalini di Roma è la prima ripresa la seconda Grazie a tutti. 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 a tutti.